Scomparsa ieri mattina e ritrovata 24 ore dopo. Cos'è successo in questo arco temporale a Tizianaglieria? La donna è una psicologa responsabile di un centro antiviolenza di Reggio. Al momento si ipotizza un rapimento lampo. Tutto è iniziato nella mattinata di ieri. La donna verso le 7 è uscita di casa per recarsi nella sede del centro antiviolenza Margherita. Poco dopo le 9 ha lasciato il suo ufficio per sbrigare alcune commissioni. A quel punto, nei pressi di Piazza Duomo, in pieno centro città, sarebbe stata avvicinata da una donna. Da quel momento il buio. Probabilmente è stata narcotizzata e caricata su un'auto. Scattato l'allarme, le forze dell'ordine hanno setacciato la città dello stretto senza trovare tracce. Poi, questa mattina, poco dopo le 7, la psicologa è stata ritrovata sotto la sua abitazione. Era in stato di shock. Qualcuno, dopo averla tenuta nascosta, l'ha scaricata lì. Allora, cos'è accaduto? Al momento Tiziana Ieria non ricorda nulla, solo pochi flash della giornata da incubo vissuta ieri, come la stanza buia in cui si è risvegliata dopo aver parlato con quella donna e il sapore amaro lasciato in bocca da qualcosa che le hanno fatto bere. Adesso è in ospedale, al GOM di Reggio Calabria per i controlli del caso. Saranno effettuati anche gli esami tossicologici, perché probabilmente è stata drogata prima di essere caricata in macchina. Azione questa che fa pensare al coinvolgimento di più persone. Le indagini sulla vicenda sono coordinate alla procura di Reggio. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto e capire dove la donna è stata attenuta per circa 24 ore. Un rapimento atipico. Ma chi sono gli autori e perché hanno messo in atto un'azione del genere? Domande alle quali stanno cercando di rispondere gli inquirenti. Al baglio anche le telecamere presenti in città. Tiziana Iaria ha aiutato decine di donne vittime di violenza, ha ricevuto in passato anche diverse minacce di morte. È ancora sotto shock, confusa. Poche le parole che riesce a dire, ma la frase che continua a ripetere è «Non arretrerò di un centimetro». Grazie. Grazie.